Salute e assosom ci idene l'ACANAS TV Il padre Salvatore Morito è affettuosamente fuori per il buon ordine Il padre Salvatore Morito è un servizio L'obbedienza è un servizio che in questo momento è particolarmente importante E' importante che siamo spagliati, siamo stati anziani E poi dobbiamo cercare come intervagare sia da una volta che può tenere con noi Pizzino, giovane, che si chiede di fare i padri Sia da esattere di dare risposta a questa cosa più importante della Sardegna Senza non spedere una cosa che magari non competino essenzialmente alla sindola franciscana E' vero, è vero, paga vocazioni e questo è un problema non solo per noi Ma è un problema che riguarda questa famiglia Che se non è finito, è più difficile che Dio abbia da chiedere finito Non lo fa che padre E' importante che a Roma in questo sinodo Chiede tutto su questa famiglia Su tema più importante Dio Greo Su periodo nostro di questo millennio Che senza questa famiglia veramente non si hanno a dare nessuna parte E' un atto naturale E' un atto di fare una domanda su Papanu Poi torniamo a questa vocazione Che penso Che a scegliere questa trasmissione Interesse in me da di iscrivere i commenti due Pizzino, buonorveso Ha sentito questa chiamata Questa famiglia però che è importante Su Papanu è una grazia di euro Mi immagino no? E' una grazia e una provocazione Specialmente per noi i padri e i franziscani In un tigento sanno nessuno vava E gli ha pensato di insegnare a Franziscus Cato tu, tu dimigliano Dimigliano a santo Franziscus Che a santo Franziscus Che a narrare cosa ammeda Che a narrare per il tipo di Leare sa vita Leare su un settore di denese E della ribaltare Completamente Cos'ha detto questo coraggio Con semplicità Ma anche con vigore Che non è cosa Che può sembrare Com'è in te nara caliguno E fai nel limale cosa De uno barroco di campagna E invece non è vero Sono cosa raffinata Siamo a narrare in un laboratorio Interiore di spiritualità E poi distribuita A sottotitoli Con un duro sentido profondo E coinvolgente E questo è una cosa bella E siamo scontenti Sottotitoli Che non è vero In una dimensione In una dimensione diversa Che non è vero In una dimensione diversa L'abonia da Che non è vero 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 Però Noi spediamo spuro E di averlo Chi due Rispondono Se hai gusto Che ne Modesti ha in più No? Ma voi però Due Siete andati Nel caso Che non è vero Forse Quali Settori Quali Che Palette Della Perché Cosa Che Nel caso E Che E È Che 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 Il suo padre deve tenere il suo figlio di Salvevegese, che non ha il suo figlio di Salvevegese, che è il suo figlio di Enede. Tenere il suo figlio di Sincenso, tenere il suo figlio di Sincenso, dove tutto si fa bene, dove sul muro sono i russi che non si trattano il suo lamento, le difficoltà di questa gente, e tenere il suo figlio di Salvevegese, che non ha il suo figlio di Salvevegese. Non ha il suo figlio di Salvevegese, ma il suo figlio di Salvevegese, che non ha il suo figlio di Salvevegese. e hanno le aree sui viagosazze e creare che due sese, il padre franciscano può tornare dai minore in mezzo a Sosateros, fatigenne ma anche creenne speranze a pari con Sosateros, questa differenza del baricentro che si sposta da. Adesso questo è stato il Papa Bergoglio, il primo che ha dato il suo coraggio di chiamare Francisco, però si ha dato questo coraggio che Renato il Chiesi l'intendiata e commenta, voi spuro che hanno deciso di fare il franciscano, non tu e bia ma tutto penso, e schizzi in partenza ai tempi si è tagliata e schizzi pure che Santo Pietro non teniva banca, come Tenara disse. Sì, questo è il vero, però mi pare che bisogna fare qualche cosa, sul sentito personale bisogna fare un po' forza, però bisogna che succeda qualche cosa che cade da esalto, che non si può fare un po' forza, non lo immaginiamo il goi, abituato a Sosatero creiamo chi, e invece no, e questo è un sparticolo che non è scomprendibile solo con questo ragionamento umano, se non è per qualche cosa, se non è Starnese che vi sia stata distruita completamente, posso al male lo sa pure chi ha fatto, e invece no, questo è questo, questo che è quando rinarrere che non siamo soli, questo che è quando rinarrere che Deus non si è distraccato di noi, e tutto non lo sanzuare, per il tempo che non stiamo più male, che questo quasi tiene bisogno di si presentare a noi in difficoltà per rossazzoare, per non cogliere questo Egitto, queste schiavitudini che intenniamo e di non crescere in una terra di liberazione, in una terra promessa liberata. E dunque c'è una providenza questo Papa Abur? Un dono veramente di suo gelo, non lo potevamo immaginare in altro modo. Ma questa penso che sia l'impressione di questo, basta abbaitare questa piatta di Santo Petro in Roma, come te spiena, con esse, che non prenda mai più spagò che tu che manda a Mizza, che non era a Sangelus e che non va a Edda della Domenica, questo è un segnale di importo, torrente invece a questa famiglia, che tu hai nato, Sara, questa è una questione del fondamento di questa società, come te lui ha distrutto questo problema? E te pensi che tu hai detto a Fager su Papa? E ad attenere ostacoli interni? Ossacolo è che Sagesia, Sagesia, sul medioevalese, la definì anagoi. Sagesia è una casta meritrix. E noi è una casta che deve narrare una bella figura, luminosa, straordinaria, chi è che deghello. E meritrix è questa condizione di peccato, di errore, di bagliosi che potete fare a Sagesia. Ecco, in questo momento, sul tema della famiglia, è talmente complicato e delicato, che veste effettivamente una cosa di scontro tra chi la pensa in uno modo e chi la pensa in un altro. Chi la pensa da più, secondo il suo condotto della tradizione, e tanto la Sagesia, che è la Sagesia del cielo per sé, detta legge sulla famiglia. E invece su Papa narra, no, hai sculta, pone origina prima a intendere, o è, quale è il suo sentito di questa gente, su questo amore, su questo progetto di famiglia, sulle difficoltà di scrivere, e poi cliccano di dare risposte, hai gusto. È una strada che non parte tanto da esalto, da il suo dogma, da questa definizione, priva di vita, magari partire da una lettura di questa condizione umana, e da questa, io ho raccomandato sconciliabile, con questa parola di Dio, con questa Bibbia, e con questo Vangelo, con questa Bibbia, certo. E tu hai, naturalmente, si spera, ma non te ne sono solo si spera, che mi riesce a pensare, 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 come te, Francisco, in cui tu possa finire, no, a giampare, a fare una rivoluzione. Dio, spero che si possa ponere i fondamenti, i fondamenti, che puoi costruire, che poi, sul cammino del Vagare, per la sua famiglia, è lungo, è in salita, e non è una cosa di pagare tempo, ma se poniamo il nostro fondamento, con il nostro, questa cosa, che si riuscita in mezzo, è, battiti una novità, a questa vita, a questa gente, veramente, è un'amore, che, su questo amore, va solo di dilattare, che, non so che il vedo, è il sentire del suo coro, ecco. Beh, è una religione, questo amore, no? Este, Deus pure è questo amore, e Deus caritas est, caritas in latino, che è una prima età, dell'amore. E noi, dobbiamo imparare, a com'ente, oe, questo amore, si declina, da mosannare, questo sentire, di questa gente, e, tanto, oe, dobbiamo, che, questa gente, tiene sentito, di amore, di vescio, uno, di esattere, e, non sempre, questo, potrebbe essere, accettabile, però, deve essere, leato, con serietà, e, meida, che, un uomine, una femmina, amana, su un esprimine, qualche cosa, che, 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 parte, di, deus, per, questo, spadre, che, stai, a, che, che, metto, da, domomia, intendo, a, scampano, sul, soccolo, per, 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 mani, gare, via, come, si, in, in, domomia, e, poi, da, pizzi, in, edu, non, vai, da, osa, carrella, osso, convento, sospadre, se, a, a, bonofa, poamia, in, cusa, parte, deonorva, e, quindi, e, mi, stata, questa, simpatia, po' suffizio di Santo Francisco e, poi, devo narrare anche questa familiarità pura, che, noi, su padre che il cante possa dare la santa, che viene generoso a me, da su bonofeso, per, andiamo a domanare due signos a babbo con salbetula che, se, va a sa iada su drigo, su gaso e via, che, voi, e, 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 da ne, possa dare la santa. Questa familiarità mi ha fatto un'ascere con questo desizio. E, quando, t'hanno inteso in domodua, difficoltà che stanno fatte o hanno accettato questa, questa novità, non era? Novità, novità, quindi, posso al maschio, posso al femmino al nono. Devo so, una vocazione, posso narrare che è stata coltivata dai mamma e da soremi, invece, babbo è frate mio, babbo è sempre, a Chiesa e via, poi, so cosa importante, vedi, di tenere un attimo andare a trevaliare in campagna, mi fai bisogno, mi fai sosteracolo, però, mi chiedi a calicuno di famiglia che trevaliare. Allora, poi, so, su futuro mio, vi diceva che pastore, e a me è piaciata. Però, poi, ben vi stato, questo padre, padre Paolo, che veniva a domandare, ma buitelo, Anna, da, si fa che padre, e gai, vi vidi, una maestra socialista, di Eurune, sa, maestra suplementare, grazie a Dizio, che, narraia sempre, a babbo e mana, manatele a studiare, questo bizzino, questo bizzino, potete studiare bene, hai studiare, hai studiare, però a Bonolva, studiare, ma ti posso scolirvi, te hai pure, maestra a chi suono, questa cosa è interessante, questo è un compagno mio, narra, chi va a Giacus, su futuro, Deo, potassi la via indù, ma l'ha potuto completamente dimenticato, che di Gustavo e Mena Deo, mi è rimasto, una memoria, veramente bella, veramente bella, tenera, nonostante fosse, nonostante vedi, un'upagudosta, insomma, però, è più sassa larga, però te oi, non solo oi, ma eri se già ti rispondi, i testi su, l'uco una di u, Bonolva come te comunitate, ed è un momento, sapete, sta manna che danno fatto, proprio te, coro, ha solo venti che in banno, il vissaino, al balladuro, e metà di l'u, non si è anche quello di vanno, in fondo, su contento, i testi Bonolva, a Bonolva este, un luogo particolare, che sono i culo, in sa terra, chi ti tenuta da, ti pone da noto, come in tono pezzino, tu è torna, sai da tua, e pelde tutto sul vestimento, siamo a narrere, e ti acciapasa, come in te visi, c'è sempre il foreddo, foreddo, in tutto subuno, si intende uno, che mi narra, foreddo, esse sicuramente, non ho il verso, possibilmente col tascio, della scuola telemia, oppure, il Paolo Pilonca, che l'isci, ecco, tanno, nessuno, il cui luogo, dove tu, ti acciapas, nudo, con una forza, che este, sa forza proprio, de sa vita, come te intra, da sa prima volta, in petto arrastuosa, e ti pare, debire tutto, da un altro punto di vista, questa è sa prima, impressione, che mi fa, che te torna, ma no, poi, este su fatto, che noi, senza famiglia, non potremmo vivere, vivere bene, e tanno, torrare, a sai da tua, e torrare, a immaginare, una famiglia, un luogo, dove, sa vita nascidi, sa vita, greschede, e sa vita, canoteusche, erede, mori puro, e, tanno, questa scuola, sai da tua, subito, ti che la pone dentro. Il test, però, come, fai le denuditate, che tiriamo, su cali, non la mi spostano, per uno, ve la mi spostano, ma due, e, in tenere, si in coro, ti presenta, nudo, ma, non vada, né lantada, ne mancia, se in questa nuditate, dove ti presenta, sai da tua, fin a, sempre umile, e modesto, però, fin a sorgoglioso, adesso, che ha fatto, e ti lo dimostrano, e ti l'hanno dimostrato, pure questo, no? C'è il vero, questo è il vero, questo è il vero, in sa vita, uno, potete, torrare a saida sua, contento di biturrare, oppure, potete succedere, chi, torre a bita sua, e non siete contento, meta, nostro signore, l'ha disperimentato, a Nazareth, più contento di bannare, però, nessuno l'ha compreso, e, stai a mezzo, su, indonate lo luogo, chi non, a Nazareth, non è un profeta, ecco, questa contraddizione, saida, tenaschita, la tenete, a me, stanno andando a mezzo, del nostro signore, a me, stanno andando, che, stanno andando, non va, mi chiedere bene, stanno andando, mi stimata, stanno andando, non va, e resiste, a me, ieri, senza, mi narrare, come ti succede, Gesù, e dai, la sabella, c'è l'ischiamo, tu, e con l'ischiamo, tutto, di questa famiglia, tu, puoi narrare, e invece, no, non lo fa, veramente, e, stanno andando, mi sento, incoraggiato, me, che hanno, a Bonorva, bisogna, santa domenica, con tutto, su spizzino, su questa comunità, di Saspru, su barantanno, su questa croce verde, chiesto una cosa straordinaria, che a Bonorva, narra, a Bonorva, ma è rimedio, come te narrare, mi ha scritto una cosa, e su cui, come vorrei, e invece, questo è barantanno, questo servizio, di volontariato, che stanno andando, e, di, di, di arricchire, ecco, da questa esperienza, come te si vedi, qualche cosa, fin mia, mi appartenia, ecco, sul barantanno, di Saspru, c'era, passiamo a un altro argomento, che non si può denare, tutto in mezz'ora, però, clicchiamo su den, di non rilmenticare, tu è, quando ti hanno votato, ai gusti in carri, con uno, bello, per questo caso, di fare, che non si è al mezzo, su Buonasura, ha sanato, che non lascia, sui pezzi, nel desaspro, sì, pezzi, non le manno, sì, quindi, finché, a, 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 non fidi compatibili scuola trascosta, se due vaghi ascusso non poti affagare altra cosa, se vi parlo con finito del vaghi parlo che vaghi ascusso, se vi sono insegnante, insomma tessi, se sei come non la può mai che il fidu vaghi cade via la sale sui spizzini, come invece è possibile che si vota vaghi e sono esattere, da una volta che i suoi padri sono diminuiti, da esattere che alcuni cosa che prima apparteniva da noi come l'amo delegato a suo responsabile di Assisi e tanto questo, uno vago non sa su, tanto devo come è come esistenza un'altra comunità, un'altra famiglia, che già la tenia ma come la devo servire pure in una maniera particolare questa famiglia e tanto, se sai come mi pare di chi bella fette, a fare qualche cosa pure, una cosa mi pare di chi bella, a fare qualche cosa, per il sito che è complicata e che sono, che fanno fatica pure, no? Fanno fatica, mi pare di passione, mi pare di amore, questo resiste di attagliare pure il suo peso, questa fatica e questa preoccupazione, è una burocrazia, burocrazia, ecco, burocrazia, questa cosa, questa cosa, però questo, non eravamo questo male, vi poniamo su salvergolittas, di essere impagoso, pensate a chi sia da, chi potrà tenere un'ora e media, vi potete dare qualche fiore nuova che spuntano da imparizziologo fino a produrre il sublima nuovo e che ha creato Papa Francisco. Sì, io mi credo in questo fatto che questa situazione sta in un modo tale che su, su, naramo su carisma, sarebbe, ti ha da essere, sa spiritualità è franciscana, franciscana, forse non deve viaggiare solo sotto il sabato di me o di un attimo, deve viaggiare in su coro del cento e media, che ha il suo messaggio del Santo Francisco, il suo messaggio proprio radicale del suo Evangelio, è un messaggio che appartiene da tutto. Tanno, forse, forse, e, so spadre se, amose ancora a calare, commenti in numero, però, i dimosso che i calcizzovano e cominciano a s'innamorare poi di una vita materiale, dedita anche a calciviscio e gai, che cominciano a cambiare idea, e stanno a separare qualcosa di più radicale, per la vita sua. E poi, uno sentito, uno sentito che è di suo babbo, è di sua mamma, è di suo frate, cioè un'esperienza di francescanismo laico, come sa narrere, che esprime da questo modo di interpretare il suo Evangelio, che è proprio come te lo sa nato, Santo Francisco, di ogni persona, cosciata, non cosciata e via. Tu hai fai dato di una comunità di celibes, di Ajanos, Pizzinnos e Bezzospuro, che decidi di sopra la sua famiglia. Una delle queste questioni, in ballo, magari non sia stata più sorgente, che è stata la tua idea, dopo fai dato, quando uno vede, un rettore, di una idea, di su Sarcidano, di 32 anni, si è nato, però, caritate, il celibato dei preti, come disegnato in italiano, no, è nato in Saldwe, ma questo va, è da fagare, in questo campo, a Teroso, non la pensano come il suo dettore sarcidaneso, che la propria di Sarà, e Dianess era a favore, tenso un parizioso amico, Spideros, per esempio, che sono a favore, e noi te ne pensate. Devo penso che ormai dobbiamo arrivare a che il suo sacerdotio sia pure da gente cosciata, come ente fidi, al suo comienzo della Sagesia, che è stata una decisione di un Papa, o più di un Papa, ma sempre di un Papa, non tenete un fondamento in sa Bibbia, in sa Evangelio, in sa parola di Gesù. Stato vero. Ecco, esattamente. E noi non dovremmo sammentare che il suo celibato del suo spirito è solo un po' gustoso natoso, rito latino, che per idroso cattolico, comente a mie, del rito orientale, sono sposato, si sposano. Sa preoccupazione mia, sai, è alice che caleste, io non so contrario a che il suo spirito si potrebbe negociare liberamente. Deo so preoccupato, de so laicos cristianos, chi non ha nevato questo gamino, de essere issos e tutto, comente nara su batticimo, sacerdote, re e profeta, per cui, e questo atti da itte, chi sono dipendente del suo spirito? Su spirito deve fare tutto, su spirito deve pensare a tutto e via. So sprotestante, se calche lezione su questo non l'udana, vada gente laica, protestante, che conosca la Bibbia, che ne esce che fa il dare, che gli esce che esporre. Ecco, se noi non azzuamos, sospristianos, a arrivare a questa coscienza, a questa consapevolezza, se noi dammo il suo matrimonio, a sospedro, senza tenere fatto questo trivaglio, noi abbassiamo sicuramente la situazione, l'efficacia, la presenza di sospedro. Caso vedo, che si deve interessare, battagliare con questa famiglia, con questo figlio, e via, non lo possiamo pensare, non lo possiamo pensare come io, 24 ore su 24, a disposizione di questa gente. Sì, però, fin a Zainoghe, in Cagliari, qualche esempio, la musappi, del rettore, di una barrucchia, che, a Berida, sono laico, è scappata da Mievuru, con Mario Cuguzzi, in Santa Eulalia, che, i prossimi, non è Natale, faghi minnoisi, non era una prega, però, non era il minnois, qualche cosa, solo su Vangeli, di ussatie, è esattamente la gratissia. Si baglio, è scusto, che questa cosa normale, è diventata quasi, una cosa eccezionale, che gli permittini, benevolmente, del Vagli, invece no, è solo il diritto, del suss cristianus, di conoscere la Bibbia, della Leare, del Nevaedale, poi, certo, bestia subidro, bestia subiscamo, che governa, complessivamente, tutta questa cosa, però, subbattigliato, già, di missioni sua, deve essere, come te narra, su rito, proprio del subbattigliato, sacerdote, re e profeta. Una curiosità di mia, ma che penso, potrebbe essere una curiosità, di chi si sia, chi scelta, la Bibbia, di questa intervista, ma, però, se no, questa è un'impressione, sbagliata mia, però, se no, se no, se no, se no, se no, se no, sì, sì, beh, questo è un luogo, che noi privilegiamo, che va silenzio, va fresco, siamo lontano, da questa attività, che è normale, quindi non potete, frammare, come te, in un'ora, se non erano, può riflettere, può pregare, ecco, a noi non spiegare me da, Fonni, non spiegare me da, se a Madonna è solo il Maltire, e non spiegare me da, pur soffonneso, calcare bene, so spadres, ecco, seppur, se mi spagoso, amonato, no, Fonni lo tenimos, sa barbaggia, tenere diritto, di una presenza francescana, che è sunica, si storia, poi lo confermata, non solo, ma deviamo sfruttare, così, a narrare, Fonni, su luogo, chi este, saria, chi best, cadenimo, uno con vento umano, e lo torniamo a berre, a disposizione del suo sattore, uno, che pensare, meditare, si, che ritirare, per uno poco tempo, Fonni, è straordinario. E tanto, potremmo, tu, al Fonneso, un amico, Fonneso, tu e me, mannato, che ti setta, da prossimo sette, di Natale, sono stati in nanti, desagurissima, desimmacolata, in Fonneso. E io, vanno volentieri, che mi piace Fonni, che non riesco, se tu e lì, ma, può sospizire, non d'essa comunità, Fonni, este, comente, che se è il Gandolfo, può sospapa. Noi, dai 30 annos, Capodanno, e mezza Ustu, lo vachimoso, sempre a Fonni. Batto il dieze, a Capodanno, batto il dieze, a mezza Ustu, casun, un feste al mannasa, e feste a, potremmo, non vago malattra, a questo spizzino, a Capodanno, o per Ferragosto, fissute un po' su, questa trasgressione, adesso se il baglio, se via, invece, Fonni, non so, guarda, hai scoprire, come ti si fa, una festa bella, una festa di famiglia, una festa pulita, pulita, senza, a te lo mi scio, ma in mezzo, ecco, questo è Fonni, buono, quindi, imputate, e Dio vanno volentieri, Susette. Grazie, grazie a Dio, Dio ce lo pagate, Dio sta accompagnando. Grazie, tra e tanto a voi, sì. Grazie a Dio.